buongiorno a tutti allora magliettina nera azzurra no perché qualcuno oggi di galassia nera azzurra con tanto di sponsor vecchio l'anno prossimo dovremmo avere socros se non sbaglio deve esserci i sense questo questo quell'altro c'è socros staremo a vedere basta che paga per me possono usare anche della carta da culo per sponsorizzarci se paga bene va benissimo anche quella come dicevano in un film di un po di anni fa con il buon se non erro carlo vergone comunque ragazzoli ragazzoli allora magliettina nera azzurra perché innanzitutto questo video andrà poi sul sito galassia nera azzurra di facebook perché sono stati i ragazzi di galassia nera azzurra meglio un ragazzo di galassia nera azzurra darmi lo spunto glielo ho detto guarda che prendo spunto e faccio un video che riguarda giosè murigno ma prima prima devo devo è c'è lo sfoghino c'è lo sfoghino perché uno dei ragazzi ha messo d'arco pance per scarso eccetera eccetera io giustamente ho ripetuto una cosa che probabilmente avevo già detto scarpa d'oro vincitore della champions con la stella rossa pace il milan lo scartò io lo vedi giocare contro stella rossa sadoria semifinale di champions league o di camp coppa campioni che dir si voglia stagione 91 92 sì perché la sadoria vinse lo scudetto nel 90 91 se non ricordo male 91 92 giocò la champions e perse poi la finale del 92 contro il barcellona con quel semifinale affrontò la stella rossa e il bon vierko non fece toccare palla a pance l'estate l'inter decise di comprarlo io so che c'era sotto anche il milan che però lo scartò a a prescindere e l'inter l'andò a prendere tutta gasata abbiamo preso il giocatore che ha scartato il milan eccetera eccetera purtroppo il milan ebbe ragione l'ho fatto notare mi ha dato del gobbo perché parli male dell'inter ragazzi se l'inter fa una cazzata fa una cazzata constatare che l'inter ha fatto una cazzata non è parlare dell'inter si chiama constatare parlare male dell'inter vuol dire parlare male così a prescindere anche se fanno cose giuste direi inter puntini puntini eccetera eccetera io se il presidente pellegrini o il presidente moratti comprono dei giocatori o ascoltano l'allenatore che fa andare via un determinato giocatore poi ci rendiamo conto che era meglio se faceva la cosa apposta è normale che la critica parte perché è una critica costruttiva su un fatto chiaro limpino la palissiano in cui c'è stato un errore ed è giusto far notare che c'è stato un errore o facciamo quelli con le fette di prosciutto che vedono solo i tipi giuventini che vedono solo la juve che un arbitraggio scandaloso a loro favore non è successo niente stanno a guardare in quell'arbitraggio scandaloso tutti i rari se c'è se esistono episodi a loro favore che non sono stati dati e ti dica no ma però c'era quello si ho capito però ce ne sono 25 dall'altra parte no ma è però è come quando vanno avanti col gol di buttare però c'era anche il rigore ricordi buttare i gol il rigore lo devi anche segnare quello era un gol fatto l'altro no poi ripeto io continuo a dire milan juve 2 a 2 va beh gol di buttare l'ho visto eccetera eccetera però a milano aveva ancora cinque punti di vantaggio e se gli è fatti mangiare comunque lasciamo perdere chiudiamo la la disputa e andiamo a le parole le parole di questo ragazzo su giusè murinio perché giustamente non molti gli interisti sono vedono di buon occhio questo giusè murinio alla roma e addirittura da quello che leggo sono andati anche oltre allora quindi questo ragazzo giustamente dice mi dispiace ma io oggi non riesco a stare zitto ora vi faccio una domanda è possibile guardate questa foto adesso le foto di giusè murinio vincitore della della champions eccetera eccetera è possibile che per voi quello che sta a sinistra possa essere cancellato da quello che sta a sinistra quindi a sinistra il murinio vincente e a destra il murinio sulle panchine della roma eccetera eccetera è possibile che ciò che quest'uomo vi ha regalato in due anni possa essere cancellato a tal punto da augurargli l'esonero da definirlo bip o cose del genere francamente rabbrividisco siamo i due ma ci rendiamo conto poi però quando si tratta di sfottere gli altri ci piace riempirci la bocca con la parola triplete non venitevi a parlare di tradimento perché l'unico tradimento che non avrei accettato da mu è allenare i gobbi o il milan gli allenatori sono professionisti e come tali hanno il diritto di allenare altre squadre ora ditemi quanti di voi dopo il triplete hanno detto ora posso anche morire no io fino a quel punto no ma ho detto ora possiamo anche non vincere più un cazzo perché ormai ero talmente pieno in più giusto per fine anno altri due titoli su tre vinti quindi proprio mi sono riempito talmente tanto l'avanza che ormai da gigetto ero diventato gigi il bobby dick la balena bianca quindi nella vita bisogna essere prosegue il ragazzo nella vita bisogna essere grati a chi ci ha dato tanto e quando poi per motivi professionali fa delle scelte va rispettato e non vi venite a dire che è un irriconoscente perché tutti e ripeto tutti avete goduto quando a torino zitti zitti i tifosi della juve con quel gesto dell'orecchio il peso delle emozioni che quest'uomo ci ha dato non potranno essere mai offuscate da una scelta di allenare la roma o da qualche conferenza stampa dove ci puzzecchia tra l'altro puzzecchiato la puzzecchiata era verso i gobby e verso il milan l'inter gli stipendi li ha pagati quindi cioè la battuta non pagare gli stipendi era verso i gobby che hanno fatto un aumento di capitale da 400 milioni e il milan che piuttosto che pagare gli stipendi perde i giocatori a zero gli stipendi li abbiamo pagato in ritardo ma li abbiamo pagati come d'accordo presi con i giocatori comunque conosciamo abbiamo amato tutti lo stile bu e se vi basta così poco per sputarli addosso allora devo pensare che la parola riconoscenza per molti di voi non ha un gran significato detto questo forza inter e grazie giuseppe per ciò che ci hai regalato allora io su sul sito di sigwell se non ricordo male qualche giorno fa gli ho detto attenzione perché perché sapete benissimo simone sigwell è tifosissimo giallorosso io ho avuto piacere di conoscerlo alla sfida che abbiamo fatto con gli youtuber due ormai del maggio del 29 maggio del 2018 abbiamo fatto una partita youtuber contro nazionale hip hop c'era anche lui e gli ho scritto burinio può fare può vincervi farvi vincere lo scudetto così come può fare la fine di ancelotti al napoli ed essere esonerato dipenderà molto sia dalla squadra che gli metteranno a disposizione sia da come la squadra lo seguirà perché credo che dopo il porto e l'inter di squadra che l'hanno seguito i giocatori che l'hanno seguito al cento per cento delle sue avventure delle altre squadre in cui ha giocato penso ce ne siano stati molto ma molto pochi perché tendenzialmente c'era sempre qualche rapporto un po' così con qualche big con qualche giocatore un po' più importante prendiamo un po' ba nel manchester united per dirne una anche nel tottenham non lo so perché sinceramente quando ho visto giocare il tottenham contro la dinamo zagabria ho visto lo stesso che fare degli errori in stile come è che si chiamava speroni dei gol sbagliati veramente che non erano da da ericane io mi auguro che ericane giochi la partita di domenica come la giocata contro nel ritorno con la dinamo zagabria perché allora l'italia stravince perché veramente quella sera lì la dinamo zagabria eliminò il tottenham si mangiò dei gol abbastanza clamorosi comunque stando su muridio alla roma diciamo che ci rimane un po male perché viene ad allenare in italia però francamente se giose muridio dovesse vincere la conference vincere la coppa italia vincere anche lo scudetto con la roma io francamente ve l'ho già detto le uniche due squadre che non sopporto sono binan e juve con le altre ho un semplice rapporto di antagonismo di sfida ti batto se mi fai complimenti bene perché ti ho battuto se non me li fai amen se mi batti sono io il primo a farti complimenti a meno che non è una vittoria arbitraggio non arbitraggio eccetera ma sono cose che con la roma capitano raramente almeno è capitato forse quel quell'anno in cui gli hanno dato quel calcio di rigore un po dubbio in cui poi siamo rimasti anche dieci però per il resto con la roma diciamo che siamo lì forse hanno più loro da recriminare che non noi però ripeto muridio alla roma non lo guardo con curiosità e senza nessun astio non vedo perché gli devono augurare cose brutte eccetera se se dovesse fare bene con la roma meglio per lui certo se dovesse fare bene bene la roma arriva a quarta e l'inter arriva a quinta magari possono anche girare le balle ma se l'inter arriva a prima o seconda e la roma arriva a quarta va benissimo se la roma vincere la conference va benissimo se la roma dovesse vincere la coppa italia ma non contro di noi va bene uguale certo se dovesse esserci inter roma è normale che mi auguro che passi l'inter e non la roma quando c'è inter roma è normale che mi auguro che vinca l'inter e non la roma e non ti ferò sicuramente il muridio come qualcuno ha fatto con il belgio anziché ti fare italia perché c'erano i due gobbi e quattro gobbi eccetera eccetera quindi non riesco a capire come mai degli interisti possono essere così imbufaliti nei confronti di un muridio che allena la roma ragazzi allena la roma non è che andato a ragione fosse andato al milano alla juve potrebbero potevano anche girarci le scatole soprattutto alla juve perché ha detto io non allenerò mai la juve siccome questa frase io non allenerò mai la juve la dissero anche altri allenatori che poi l'allenarono ho detto non si sa mai ma almeno lui è stato coerente della roma può fare bene può rilanciarsi può riaprire la sua carriera così come può chiuderla definitivamente ragazzi muridio si è preso una bella patata bollente noi lo guarderemo con affetto con simpatia eccetera ma noi ti fiamo inter lui alla roma quindi finché affronta le altre squadre sono affari suoi quando affronterà noi mi auguro che gli interisti qualora ci fosse la possibilità di andare allo stadio che cosa forse ci sarà non lo so dipenderà dal mio futuro il mio futuro è ancora molto ipotetico vedremo cosa succederà sicuramente sarà su youtube poi vedremo cosa succederà mi auguro che lo accolgano bene mi auguro che lo accolgano bene ma poi in campo si gioca per vincere e per batterlo ma mi auguro che lo accolgano bene dunque metà stadio lo fischi e metà stadio lo applaudi come accadeva per altri ex nerazzurri che erano lì lì come è successo anche con ronaldo è quando ronaldo andò a mila e ci segnò con facendo le orecchiette poi noi ribaltammo la partita con i brai e non mi ricordo chi segnò l'altro gol forse cruz tra l'altro cruz a momenti segnava di tacco sarebbe venuto giù lo stadio comunque vabbè fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa cosa che ha fatto notare questo ragazzo del di galassia nerazzurra di interisti beceri nei confronti del buon giosè muridio detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao ciao